A me se c'è una cosa che mi fa girare veramente i maroni, ma mi girano in un modo i maroni che non credo che possano girare più di quanto mi girano in questo momento, sapere che ci sono quei politici zio porco francobollato che discutono sulla riforma elettorale. Ma sa che discutete sulla riforma elettorale? Vedete che nessuno vuole più andare a votare? Pensate che sia per la vostra riforma che non vanno a votare? Zio porco monopolizzato! Non lo capite che la gente non va a votare perché non sa più chi cazzo votare di voi? Volete fare una bella riforma elettorale? Siamo pronti, ve la suggerisco io una bella riforma elettorale. La riforma elettorale invitate i cittadini italiani ad andare alle urne a votare e a dire cosa ne pensate della politica e chi vorreste vedere come governatori della nostra patria. Lo sapete? Cosa vi rispondono zio porco risicato? Nessuno! Perché nessuno di voi ha la fiducia di un cittadino. Quindi la riforma elettorale, voi dovete cercare di elaborarla sia porco computerizzato perché altrimenti non riuscite dopo incularli un'altra volta i cittadini. Riforma elettorale, andiamo tutti a votare e diteci cosa ne pensate. Siete sicuri che andate a casa tutti e non vi diamo più neanche la pensione!